Il congresso è un appuntamento fondamentale per ogni organizzazione e per la CGL in particolare, ha dichiarato il segretario provinciale Alessandro Mugnai. Aver deciso di dedicare la sua apertura al tema dell'emigrazione e dell'accoglienza evidenzia quanto peso assegniamo ad esso. La nostra logica e la nostra visione del mondo non è quella che emerge sempre più. Mettiamo la persona al centro e prima di ogni altra valutazione, la persona senza distinzione e specificazione alcuna. Il 18 e il 19 ottobre all'hotel Minerva la CGL Aretina si interrogerà sul futuro dei sindacati e sul momento storico che stiamo vivendo. La mattina del 18 sarà dedicata ad una tavola rotonda su una nuova comunità solidale. Alessandro Mugnai presenterà assieme al dirigente scolastico Luciano Tagliaferri il bando della CGL destinato agli studenti del liceo artistico, un bando per la produzione di nuove idee ed immagini contro il razzismo. La seconda parte del convegno sarà invece riservata alla descrizione diretta della vita dei migranti e dei richiedenti asilo. Sarà presente infine anche la giornalista della carriera. Grazie a tutti.